Chi è l'ultimo? Chi sono gli ultimi di questo nostro mondo, di questa nostra vita? E con le parole di Pino Petruzzelli, questo attore, regista e scrittore pugliese, che ha scritto appunto un libro che si chiama Gli Ultimi, dicevo con le parole che abbiamo già iniziato a leggere ieri, abbiamo capito che essere ultimi è essere un po' fuori dal coro. Che gli ultimi sono ancora quelli che per esempio resistono alle mode di oggi, resistono ai pensieri poco umani o disumani di oggi. Che gli ultimi sono, come diceva appunto Pino Petruzzelli, l'ultima barriera di una umanità che resiste contro le barbarie delle mode, dei pensieri e degli stili di vita. Sono gli ultimi considerati da un mondo in cui il primo è colui che primeggia, è colui che sa competere, è colui che produce. Gli ultimi sono quelli che vivono questa umanità, per esempio gli ultimi per il Vangelo sono proprio quelli che non producono. I malati, i malati, gli anziani, quelli che tra virgolette una società sempre più disumana, una filosofia sempre più lontana dalla verità ultima dell'uomo, un pensiero sempre più basato e che nasce dal profitto, considera inefficienti, considera una realtà passiva e non produttiva. Bene, proprio questi sono gli ultimi che noi dobbiamo amare. E gli ultimi a cui Gesù, o meglio, in cui Gesù non solo si è identificato, ma ha detto di essere proprio lui ultimo, perché lui si è fatto ultimo. Ma continuiamo ancora a sentire Pino Petruzzelli nelle sue parole che prendiamo dal libro Gli ultimi. Gli ultimi sono coloro che non si arricchiscono grazie alla forbizia. Gli ultimi sono quelli che credono nel lavoro e nella fatica e non nell'intrallazzo e nelle raccomandazioni. Gli ultimi sono quelli che hanno memoria del passato e delle proprie radici culturali e che grazie a questa forza non hanno paura dello straniero. Gli ultimi sono i contadini. Gli ultimi sono i solitari che hanno scelto una vita appartata invece della solitudine chiassosa della città. Gli ultimi sono quelli che non subiscono le seduzioni del palazzo o delle poltrone. Gli ultimi sono coloro che credono nella pace come valore universale. Gli ultimi sono quelli che non hanno bisogno di impianti d'allarme, telecamere e muraglioni da costruire. Gli ultimi sono i bambini costretti a prostituirsi. Gli ultimi sono i bambini di tutte le razze. Gli ultimi sono quelli che dietro una cattedra rischiano la vita perché credono nella cultura e nella scuola. Gli ultimi sono coloro che anche da morti chiamiamo clandestini. Gli ultimi sono tutti quelli che scelgono di stare sempre dalla parte dei più deboli. Sono questi gli ultimi che ho incontrato, dice Pino Petruzzelli, nella convinzione che se fossero ascoltati avrebbero molto da insegnarci. Io vi aspetto domani. Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao! Ciao!